Zeman ha detto sì al Cagliari. E' così finito il sogno dei tifosi biancazzurri di riabbracciare il tecnico boemo che dopo aver aspettato la scadenza del preaccordo con il Bologna ha deciso invece di accettare la proposta del Cagliari e del nuovo presidente Giulini. Il 67enne tecnico di Praga ha così sciolto le riserve trovando nuovamente posto su una panchina della massima serie dopo l'esonero di Roma. In arrivo all'Adriatico i dirigenti sapevano che l'opzione Zeman era di difficile riproposizione e per questo si stava già lavorando e non da ieri su altre piste. Marco Giampaolo resta l'ipotesi più verosimile ma l'irruzione sulla scena di Lusescu Junior potrebbe portare a colpi di scena fino a qualche giorno fa imprevedibili. L'ipotesi di vedere sulla panchina biancazzurra un tecnico straniero è tutt'altro che campata in aria. Il direttore tecnico Giorgio Repetto e il neo DS Peppe Pavone hanno incontrato due volte Lusescu Junior ricevendone un'ottima impressione. Con in panchina il figlio dell'ex allenatore di Brescia e Inter, attuale tecnico degli ucraini dello Charter, si potrebbe privilegiare la scelta di dare spazio ai giovani. Quello di puntare sulla linea verde è un obiettivo primario della società biancazzurra. In queste ore a Milano i dirigenti pescaresi hanno anche avuto un contatto con Baby Pillon che rappresenta un'idea importante considerando la sua esperienza e competenza nel torneo cadetto. Mentre si decide in queste ore quale sarà il nuovo allenatore bisognerà anche pensare alle comproprietà. Domani sera alle 19 ci sarà il Gong, accordo fatto per il rinnovo di Caprari e Politano. Rizzo verrà riscattato dalla regina mentre per Ragusa potrebbe prevalere la volontà del Genoa di riprendersi il giocatore. Previste le buste per Bigir Bjarnason. Intanto a Pizzo Ferrato, dove il Pescara svolgerà la prima parte di ritiro, andrà a lavorare ufficialmente anche la salernitana che parteciperà al prossimo campionato di Serie C.